Buongiorno e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e attivare la campanellina. Siamo oggi del tempo previsto sull'Italia nel corso della prossima settimana, quando due forti colate gelide, tardotunnali, invernali colpiranno l'Italia. La prima avverrà tra il 24 e il 25, quando dei forti venti provenienti dai quadranti nord-occidentali soffriranno sul mar Ligure. Tali venti poi invadranno anche parte del Piemonte con sacche d'aria fredda in quota a circa 600-700 metri. Tali sacche d'aria fredda provocheranno nevicati fin verso i 400-500 metri sul basso Piemonte con accumuli fino a 10 cm sulle colline principali Langhe e Monferrato. La seconda ondata di fredda entrerà sull'Italia tra il 27 e il 28 di novembre con l'entrata della termica a meno 4-8 a 1500 metri su gran parte del nord e la termica 0-4 gradi al centro e al sud. Avremo uno zero termico che rollerà fin verso i 400-800 metri al nord fino a 1200-1600 metri al sud. In questa seconda ondata avremo nevicate solo a partire dai 500-600 metri su tutto il centro del nord, possibili impiancate anche più in basso, accumuli fino a 10 cm sull'Appennino.